Un ulteriore passo avanti verso una mobilità più facile e sicura si è concretizzato per il collegamento ferroviario tra l'aeroporto internazionale di Bari e il centro della città. L'innovativo servizio sviluppato da Ferro Trambiaria consente di pagare il biglietto in modalità digitale e accedere ai treni avvicinando la propria carta di pagamento a uno dei tornelli presenti nelle stazioni e in caso di controllo ai terminali in dotazione al personale di verifica. I viaggiatori non dovranno quindi più preoccuparsi di cercare il punto vendita per l'acquisto del biglietto e validarlo prima di accedere ai treni. L'obiettivo è perseguire un percorso di mobilità smart con l'auspicio che l'iniziativa possa rappresentare il punto di partenza per integrare tutto il trasporto regionale e fare in modo che il pagamento elettronico entri sempre di più nella quotidianità dei cittadini. L'emergenza covid persiste dunque meglio evitare il pensiero delle lunghe code. Adesso si potrà direttamente raggiungere il binario. L'emergenza covid persiste dunque. L'emergenza covid persiste dunque. L'emergenza covid persiste dunque. Grazie a tutti.